Cauna e suo fratello, una storia disperata di una bambina di solo 15 anni e di suo fratello di quasi la metà che sbarca a Pozzallo. Una vita distrutta di una bambina come tante altre che fugge dalla propria terra, come tanti altri minori non accompagnati, tante altre donne per cercare fortuna altrove. A parlare delle sue mille peripezie da Lomea a Pozzallo, il giornalista Calogero Castallo che ne ha scritto un libro con la speranza di appassionare e innescare nel lettore la scintilla dell'interesse su un fenomeno spesso trascurato, quello appunto dell'immigrazione. Un libro pubblicato ad ottobre dello scorso anno che adesso approda anche alla fiera del libro di Torino il prossimo 19 maggio. Cauna e suo fratello sarà presente al Salone del Libro a Torino il 19, è uscito lo scorso ottobre quindi sono sei mesi e sono sei mesi di soddisfazioni. È una storia che chi ha letto questo libro mi ha riempito di complimenti e mi ha fatto molto piacere alla cosa su un fenomeno che è quello dell'immigrazione che come dicevi tu è un problema che ancora oggi a distanza di 25 anni è ancora un problema che esiste e che per certi versi non vuole neanche essere risolto. Non voglio fare assolutamente polemica, non è il caso, però invito veramente a scoprire questo libro perché è la storia di una ragazza, di una ragazza di 15 anni che insieme al fratello di Otto partono da Lomè nel Togo, quindi Centroafrica e attraversano un po' sul pullman e molta strada a piedi fino ad arrivare sulle coste della Libia, attraversano il Mediterraneo e arrivano a Pozzallo. Io quando faccio le interviste faccio sempre un esempio esplicativo per rendere conto di quello che è stato il viaggio di Cauna e suo fratello. Quando andiamo a comprare magari dal macellaio, andiamo al supermercato e dobbiamo fare 200 metri, prendiamo la macchina. Ebbene questa ragazza a piedi ha fatto Pozzallo Milano 5 volte andate ritorno, 5 volte Pozzallo Milano andate ritorno. Ed è arrivata, a differenza di tanti altri migranti che purtroppo non ce l'hanno fatta in questi anni di sbarchi. Un po' ridietro le quinte, come sei riuscito a contattarla, a parlare, a staurare un rapporto di fiducia a tal punto da farti raccontare da una bambina di 15 anni tutta la propria esperienza e tramutarla in un libro. Il particolare è un po' divertente che non cito nel libro e spoilerò a voi di Canale 74. Io andavo tutti i giorni, tutti i pomeriggi alla ricerca di notizie proprio perché corrispondente del famoso quotidiano La Gazzetta del Sud e ho conosciuto questa ragazza sul cancello del centro di prima accoglienza che oggi si chiama Hot Spot di Pozzallo. La ragazza aveva difficoltà a reperire cibo per il fratello, e mi ha chiesto una scatola di biscotti e loro ho detto raccontami un po' la tua storia e da lì è nata l'amicizia con questa ragazza con cui ci siamo visti anche nei giorni a seguire e ripeto con il mio inglese che non è sicuramente oxfordiano, è il suo inglese abbiamo instaurato prima un dialogo, poi anche un'amicizia e mi ha raccontato tutta la sua storia. Storia che adesso quindi lo ripetiamo per concludere approderà anche a Torino, giusto? poterai incontrare tante persone, con quale speranza? Allora, io desidero fortemente che questa storia sia di dominio comune perché io credo che molte persone non sappiano davvero realmente quello che accade in Africa. A volte vedo molti salotti televisivi dove si parla di immigrazione senza conoscere davvero quello che è il reale problema dell'immigrazione e questo libro racconta il viaggio reale di questa ragazza, quello che è affrontato davvero. Non credo che ci siano in Italia tanti libri che diano il risalto reale di quello che accade in Africa. Vi invito davvero a leggere questo libro per darvi un'ulteriore idea, un'ulteriore informazione di quello che accade in Africa. È raccontato in questo libro di 300 e passapagine, è molto scorrevole, è un libro che si legge con molto entusiasmo ed è un libro che sicuramente vi appassionerà e non vedrete l'ora di passare alla pagina successiva perché è davvero un gran bel testo.